Siamo alla vigilia della nostra seconda trasferta consecutiva in questo girone di ritorno di Eurolega, di top 16 di Eurolega, sul parquet di Vittoria. Un'avversaria rinfrancata dall'ultimo successo ottenuto ad Atene contro il Palatina Ecos e bissato poi domenica in campionato. Ci attende una gara molto dura, molto intensa contro un avversario che anche nella gara di andata ha dimostrato di avere stazza, consistenza fisica ed organizzazione per crearci grandi difficoltà.